Un boom di presenza che è quel museo archeologico per Canova, un maestro dell'antico che ha fatto tappa a Napoli. Siamo felicissimi, il sold out a Napoli, tantissima offerta culturale e turistica. In questo momento a Napoli c'è la migliore offerta culturale italiana, Canova al Mann, Caravaggio a Capodimonte, Escher al Pan, Chagalla alla Pietra Santa, qui abbiamo anche Ugo Pratt con Corto Maltese. Nelle prossime ore il Comicon siamo davvero felici perché Napoli sta andando alla grande sul piano culturale e questo ci riempie di orgoglio e di responsabilità.